Piacenza, Fiorenzuola e Castel San Giovanni passati al settaggio dagli agenti della Questura. Un ampio intervento per una serie di controlli di sicurezza e antiterrorismo che hanno portato all'identificazione di oltre 150 persone. Sotto i riflettori anche esercizi commerciali, internet point, phone center, struttura di ricezione e servizi di trasferimento di denaro. Ai servizi preventivi coordinati dal dottor Michele Rana, dirigente dell'UPG della Questura, hanno preso parte il reparto prevenzione crimine, DIGOS, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Ferroviaria e si sono concentrati in luoghi di aggregazione di soggetti appartenenti a frange sensibili per quanto riguarda la continuità al radicalismo islamico. Nella prima giornata di intervento sono state controllate 85 persone, quasi tutte di origine straniera e 5 esercizi commerciali dove è stato intercettato un lavoratore irregolare, l'aggiramento della norma che vieta ai richiedenti asilo sul territorio da meno di 6 mesi e di svolgere un'attività lavorativa. Particolare attenzione è stata posta nei confronti di alcuni luoghi sensibili come la stazione ferroviaria di Via Roma, Portagalera, Via Dante, Via Colombo e Via Emilia Pavese. Quattro gli stranieri, due egiziani, un nigeriano e un tunisino, risultati irregolari sul territorio, alcuni destinatari da rifiuto di permesso di soggiorno e con ordini di espulsione non ottemperati. Due di loro hanno tentato la fuga, sono stati bloccati, ma il loro fermo è costato il ricovero in ospedale a due agenti. I controlli sono proseguiti in una seconda giornata presso macelleri etniche, circoli recreativi e tra esercizi di somministrazione alimenti e bevande della città. 68 le persone identificate, mentre un cittadino marocchino è risultato a sua volta irregolare e si è dovuto provvedere all'accompagnamento all'aeroporto per l'espulsione.